buongiorno allora situazione non particolarmente positiva nel senso che il decreto non c'è doveva essere la cosa più urgente del mondo bisogna fare tutto in fretta bisogna muoversi bisogna arrivare per tempo no e così questo tipo notte stiamo lavorando di notte fissiamo il decreto alle 10 di mattina fissiamo il consiglio dei ministri alle 12 così questo tipo il decreto non c'è cioè vi hanno detto che c'è ma il decreto non c'è non c'è in gazzetta ufficiale non c'è da nessuna parte quindi non possiamo neanche esaminarlo non possiamo neanche dire cosa non va non possiamo fino a un certo punto possiamo metterci a dire ma che diamine state facendo ma vi sembra che si possa dare i famosi 600 euro alle partite iva che in questo momento non possono lavorare ma vi sembra che si possa fare qualcosa vi sembra che si possa prorogare una cosa per quattro giorni che ovviamente siamo già praticamente scaduti dopo che hanno prorogato quella cosa per forse hanno prorogato quella cosa per quattro giorni ma non c'è perché come gli avevamo detto noi perché qui poi a un certo punto uno si stufa quasi di avere ragione come gli avevamo detto noi se prendi e fai 200 pagine di marchette poi è un casino perché c'è un motivo per cui di solito c'è una commissione bilancio che normalmente fa la gestione di una legge di bilancio se tu te la scrivi così dicendo oh ma chi è c'è il mio amico mio cugino che ha bisogno di soldi aspetta un po che scrivo sul decreto soldi al mio amico soldi al mio cugino soldi al categoria x o y o così questo tipo se poi scrivi queste cose non sono coordinate non sono coordinate con la legislazione attuale non sono coordinate con i decreti che sono in scadenza e così questo tipo viene fuori un casino perché non è che tu puoi fare una legge di bilancio scrivere leggi così questi non sono capaci non sono capaci siamo in mezzo a però bisogna essere collaborativi bisogna essere collaborativi bisogna sorridere perché altrimenti sei uno sciacallo non solo non puoi neanche dire quello che pensi lo state vedendo come sta andando sui social no cioè se tu appena appena provi a dire qualcosa che non è allineato esattamente a quello che dovrebbe essere l'applauso o canta sui tetti o mi raccomando stasera l'inno domani azzurro o cose di questo tipo sei uno sciacallo devi star zitto devi andare via zitto silenzio ma cosa come come ti permetti vai via oggi non so tanto per dirti uno perché si è preso l'ennesima cosa travisata perché tanto il meccanismo è quello no se uno non è contento di quello che uno dice poi tra visa anche quello che uno dice o scrive mi ha detto che forse era il caso che fossi magari appeso tipo piazzale loretto no ecco siamo a questo livello qua signori se pensate di questo ve lo dico chiaro l'ho anche scritto ma lo ripeto qua se pensate di farmi star zitto ma guarda che avete sbagliato proprio persona è perché siamo già qua che non dobbiamo toccare il manovratore perché chissà che cosa ma ma il nostro dovere io è mio preciso dovere come vostro rappresentante come vostro rappresentante di dei cittadini che mi ha votato prendere non stare zitto se vedo qualcosa che non mi va dico che c'è qualcosa che non mi va in questo caso ci sono tante cose che non mi stanno andando una delle cose che non mi stanno andando tanto per dirne una è tutta l'impostazione di cosa stanno facendo perché negli stati uniti c'è appena stato un intervento del ministro dell'economia locale che ha detto la cosa più banale del mondo bisogna far partire gli assegni perché se io blocco le persone a casa come campano non con il decreto che sposta in avanti le tasse perché per le partite iva che sono buona parte di quelli che sono a casa e che non avranno né lo stipendio né la cassa integrazione cosa mangiano prima di tutto e poi gli possiamo dare le famose 600 euro che non si sa se sono 500 600 euro una tantum meno del reddito di cittadinanza ma soprattutto tutte le tasse le bollette tutta l'attività che che normalmente uno ha con con le scadenze non sono cancellate sono spostate in avanti ora fino a ieri poi oltretutto quasi tutti anzi tutti quelli che fino a ieri fino a boh fino a non si sa quando perché il decreto ripeto non c'è se tu facevi parte di una cassa privata quindi non eri una partita iva inps ma eri che ne so dal giornalista in giù no così così tipo architetti qualsiasi cosa che in ogni caso non sta lavorando e che ha la sua cassa alla cassa privata non 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 fa parte di quelli che possono avere il di quelli che possono avere la partita pure la mancia no l'abbiamo fatto notare abbiamo detto adesso oddio lo correggiamo ora capite bene che a me va benissimo fare questa parte di quelli che prendono le loro bozze vede le boiate che ci sono prendegli le fa notare loro le cambiano poi oh grazie poi dopo oh aspetta che prendiamo gli applausoni perché conte di qui conte di là dall'altra parte capite che un po' mi scoccia perché stiamo facendo lavoro per loro senza essere assolutamente coinvolti al loro tavolo però fatto sta che il punto è mentre qui si sta ci si sta affannando su spostare le scadenze fiscali che poi arriveranno tutte in mezzo alle gengive dall'altra parte stanno ragionando su una cosa molto più semplice bisogna mettere in circolo del denaro perché se io non lavoro come faccio poi a far funzionare il meccanismo dello stato vale a dire a comprare quelle cose che in questo momento sono sono necessarie beh signori il punto il punto è abbastanza è abbastanza semplice bisogna cominciare a far avere del denaro ai cittadini è una cosa è una bestemmia una cosa assurda o cose di questo tipo no non è una bestemmia una cosa assurda è la cosa più normale da fare è la cosa più normale da fare perché se io ho dei cittadini che in questo momento sono senza denaro che ci fanno vogliamo dato che la cosa nel caso non abbiate capito probabilmente andrà per le lunghe eh come come pensiamo che di risolvere il problema di una persona che non può uscire di casa e dopo un mese non avendo entrate anche soltanto con il pane il prosciutto cotto se l'è esaurita questo ovviamente senza contare tutta la lista di fallimenti che si stanno preparando perché nessuno sta pagando più i fornitori perché nessuno paga più niente come si fa a non capirle queste cose come si fa a non capire che ci vogliono degli interventi incredibili e questi interventi incredibili non potranno mai essere il MES perché avete visto cosa è successo ieri no? allora dice va bene ok non ne parliamo più del del come si chiama non ne parliamo più della riforma del MES grazie a cavolo che non ne riparlano più perché tanto in ogni caso se anche avessero approvato la riforma del MES con il come si chiama ora che c'era la ratifica qua eravamo già passati alla prossima di epidemia no? invece guarda caso stanno pensando di usare quello che c'è no? allora c'è la bella intervista di Regling che dice certo stiamo esplorando la possibilità cosa? allora come abbiamo detto ieri tu non esplorare niente della possibilità liquida quel diamine di MES e dacci indietro i nostri 58 miliardi ho capito? 58 miliardi la banca centrale europea procuota quindi non nessun favoritismo ci ridia 58 miliardi e come ho detto io perché vedete che alla fine poi in una maniera o nell'altra si arriverà prima o poi perché se no come sempre questi non ragionano fino a che non c'è la semi rivolta comunque come ho detto io l'unica cosa è riprendersi i nostri 58 miliardi del MES con i 58 miliardi del MES per 10 mesi possiamo dare 1000 euro di stipendio a 6 milioni di italiani registriamo per 10 mesi 1000 euro di stipendio a 6 milioni di italiani che in questo momento non stanno ricevendo non possono ricavare nulla dalla loro attività perché sono chiusi per decreto non per colpa loro per decreto e non sono soldi che ci deve dare nessuno sono soldi nostri capito? comunque vedete che gli americani c'è l'intervista di Munchkin sta andando esattamente in questa direzione dice bisogna mettere in circolazione del denaro perché se no altrimenti come ne veniamo fuori è certo come ne veniamo fuori e dall'altra parte però c'è il piccolo problema e con questo vi lascio con questa riflessione perché poi non vorrei fare il piccolo complottista non so se avete notato che da tutte le parti adesso la Cina è quella buona sono buoni sono loro che hanno fatto il casino hanno fatto partire il virus non è colpa loro probabilmente è stato un pipistrello è stato il pangolino non lo so che cavolo ne sia stato però fatto sta che il virus è partito da lì non è partito da Codogno, da Voe, Uganeo ecco mettiamola così allora dopo essere stati loro che hanno fatto questo però sono così buoni ci hanno mandato i medici ci hanno mandato le mascherine ci hanno mandato i dottori adesso ci mandano tutti i loro prodotti perché casualmente da loro non c'è nulla finito tutto finito tutto dopo aver sistemato la cosa nella provincia di Wabay lì che causa è insomma intorno a Wuhan in Cina non c'è più niente e sono tutti lì ma mi arrivano contatti da persone veramente di massima affidabilità che dicono guardate che se vi servono questo se vi serve quest'altro o cose di questo tipo non c'è problema arrivano dalla Cina servono le mascherine ho un contatto io che arrivo dalla Cina serve questo io che arrivo dalla Cina 5 Stelle e Conte costantemente stanno facendo gran cassa di propaganda dalla Cina io quando l'altra sera ho sentito Buffagni che quindi non è esattamente uno degli scappati di casa del Movimento 5 Stelle che dice ma io piuttosto l'Unione Europea che vada a quel paese e fin qui magari possiamo anche andare d'accordo piuttosto la Cina io mi preoccupo un po' piuttosto la Cina ma la state cogliendo questo tipo di propaganda che arriva da tutte le parti Cina buona la Cina ci aiuta e cose di questo tipo ma l'avete visto anche il premier serbo che dice l'unica cosa è la Cina la Cina ci aiuta a voi va bene suona tutto corretto suona tutto corretto che giri così a me piacerebbe sinceramente che non ci sia qualcuno che ci aiuti a me piacerebbe che l'Italia sia semplicemente lasciato lasciata in pace e nella possibilità di fare quello che possiamo fare perché oggettivamente di questi tempi guardate che non siamo messi malissimo se venissimo messi in condizione di poter fare quello che vogliamo perché in ogni caso il cibo che mi sembra che in questo momento sia la prima preoccupazione in giro per tutto il mondo insieme con il biomedicale siamo messi abbastanza bene e abbiamo molto margine per cercare di arrivare anche all'autosufficienza alimentare e anche su biomedicale mi sembra che non siamo secondi a nessuno quindi in una maniera o nell'altra l'Italia si è lasciata tranquilla per poter tenere per poter dare quello che hanno bisogno i cittadini che in questo momento sono obbligati a non muoversi non è un qualcosa di messo così male attenzione rispetto a tanti altri paesi diciamo che vogliamo vedere se questa cosa dura per un sacco di tempo vedo peggio chi produce non lo so la Francia non la vedo benissimo solo con i beni di lusso ecco e con poco altro la Francia la Germania con le automobili mi sembra che in questo momento la prima preoccupazione di tutti in giro per il mondo sia comprarsi comprarsi un'auto tedesca per cui insomma noi numeri ce l'avremmo il problema io quando sento passare un'ambulanza mamma mia comunque fatto sta che la situazione al momento è questa abbiamo un governo che sta facendo dei gran pasticci la voglio prendere per buona dei gran pasticci e che in ogni caso non avrà mai il coraggio di prendere e fare quello che bisogna fare in queste situazioni cioè misure drastiche di spesa per rimettere il denaro in circolo anzi che è tentato di ricorrere al mess o a quegli strumenti che ci legherebbero mani e piedi all'unione europea la banca centrale europea sta agendo esattamente come i tempi di trisce vale a dire che invece di dire c'è un'emergenza non c'è uno shock asimmetrico non c'è l'Italia che sta facendo sciocchezze mentre invece tutti gli altri vanno bene quindi gli spread non si tollerano a quel punto vedete che il mercato si aggiusterebbe istantaneamente no invece gli spread aumentano e non solo i tassi di interesse sono passati dal 1% a 2,5 così caro amico Gualtieri che di solito veniva lì con il serrisino e la slide dicendo il dividendo della stabilità perché c'erano i tassi che scendevano in tutto il mondo e lui arrivava e metteva sul suo cappellone dicendo che era suo perché tutto il mondo godeva perché tutti guardavano e applaudivano il grande Gualtieri beh signori no mi spiace ma i tassi stanno andando su in modo pericoloso siamo passati dall'1 al 2,5% sul decennale è sempre poco sì sarà anche sempre poco però tenete presente che stiamo andando in un sistema dove lo Stato avrà una recessione notevole e con una recessione notevole sapete che cosa fa il rapporto debito-pil quindi io mi auguro veramente che qui le cose finiscano in tempo rapido perché non siamo sulla strada giusta qui bisogna fare una cosa molto semplice bastava un decreto di due righe le tasse sospese e cancellate per chi ha delle attività che sono fermate per decreto reddito per chi in questo momento non può lavorare basta finite le due righe vedete che eri eri a posto invece abbiamo stiamo facendo esattamente il contrario perché perché c'è una mentalità che è totalmente contraria alle partite IVA e così via questa è tutta gente che dice ah tu partita IVA che fino all'altro ieri mi rompevi le balle prenditi il reddito di cittadinanza ecco io vedere questo atteggiamento arrogante e così questo tipo da parte di qualcuno che in questo momento è residuale come peso politico e solo per un caso si trova in quella posizione mi fa passare un po' la voglia di essere collaborativo però lo sapete avete visto com'è uno appena prova a parlare sciacallo 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 io l'unica cosa che al momento al momento si può fare è vigilare già un risultato l'abbiamo portato a casa perché si sono resi conto che con la questione del mess se fossero andati avanti non 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 sarebbe venuto fuori bene ma non mi tranquillizza perché come vi ho detto quel rinvio è un rinvio ovvio non potevano far altro cioè se loro volessero intervenire col mess non ci sarebbero stati tempi fisici per poter intervenire in questa situazione quindi diciamo che sono stati presi di sorpresa ecco nei loro nei loro piani l'idea e il piano di usare il mess così com'è è altrettanto criminale quindi al momento l'unica cosa che possiamo fare è far pressione se vediamo quando arriverà al punto in cui si vede che stanno andando esattamente contro quello che si deve fare e che la questione passa l'emergenza ve lo facciamo sapere e a quel punto vediamo un po' come venirne fuori perché purtroppo il problema è sempre quello cioè in questo momento il Parlamento non può funzionare il Parlamento non può funzionare ci sono una serie di deputati lunga così in quarantena e anche soltanto raggiungere Roma diventa complicato e allora a quel punto vengono fuori questi mostri questi orrori teniamoci stretta la nostra democrazia teniamoci stretta il nostro Parlamento che ci si accorge cosa serve a cosa serve quando non c'è perché il solito discorso è questo come la salute finché stai bene tutto bene quando quando non c'è ti rendi conto che la tua voce quello che è la tua garanzia anche dell'opposizione per poter controllare che diamine sta succedendo e poter cristallizzare con un voto quello che un governo volendo potrebbe fare di totalmente sbagliato allora forse 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 ci si rende conto di quanto quel Parlamento invece serva vi continuo a informare vi continuo a informare nei dettagli Viva l'Italia ha ragione l'amico che lo scrive adesso sempre viva ma ricordiamo che non si fa Viva l'Italia semplicemente cantando dalle finestre si fa lavorando per far crescere e far diventare questo paese grande questo paese grande diventa grande se non lo si svende a qualcun altro